Il vincitore di questa sesta edizione di Tussi che vale, diciamo tutti insieme, il mio 3, 1, e Enrico Musco! Il vincitore di questa sesta edizione di Tussi che vale, la grande famiglia non finisce la sola e noi andiamo un attimo in vacanza, ma neanche tanto, ci vediamo tra pochi mesi, grazie, grazie ai giudici, grazie ai miei soldi, grazie al nostro pubblico, buonanotte a tutti, avviva il Salento! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!